Adeguamento degli oneri della legge Bucalossi, ovvero l'imposta riguardante l'edificabilità agli attuari parametri Istat e soprattutto alla legge regionale. E la proposta fatta nell'ultima commissione urbanistica di Roseto degli Abruzzi, in cui erano presenti, tra gli altri, il presidente della commissione Ennio Pavone e l'assessore alla rigenerazione urbana Gianni Mazzocchetti. Legge regionale che stabilisce se attuare un incremento fino al 30% o un decremento fino al 50% e appunto la proposta è stata quella di portare il Comune Rosetano, in linea con gli altri centri limitrifi della costa. E' stato trattato un argomento importante in commissione urbanistica che prevede un primo punto l'adeguamento Istat, che non viene più fatto dal 2011, quindi un adeguamento obbligatorio che noi andremo a fare. E inoltre abbiamo rivalutato in base ad una legge regionale che dà la possibilità a tutti gli enti di applicare un decremento oppure un incremento della legge Bucalossi oppure mantenerti adeguata a quella che è la tariffa stabilita dalla regione. Abbiamo fatto anche un controllo, una verifica sugli altri comuni, nessuno applica un decremento. Il Comune di Rosetano degli Abruzzi invece applicava un decremento dalla fine degli anni 90 del 50%. Quindi noi ci adeguiamo, oltre adeguamento Istat, a quella che è la tariffa regionale, adeguandoci anche a quelle che sono le tariffe dei paesi, delle città limitrofe sulla costa. Assessore, ci potrebbero essere alcune polemiche in merito a questa situazione? Sicuramente delle polemiche ci saranno sempre, come dico. Però quello che è un adeguamento e questo però è stato fatto solamente nella zona di Roseto Centro e abbiamo fatto un piccolo incremento nelle zone di maggior pregio, lasciando invece questo decremento del meno 50% per quanto riguarda le strutture turistico-ricettive, per quanto riguarda le attività produttive e per quanto riguarda anche le attività artigianali. Quindi il decremento è rimasto appunto per favorire anche la residenziale nelle frazioni. Ci siamo solamente adeguati nella zona di Roseto Centro, nella zona di Cologna Spiaggia, facendo una specifica dal pezzo centrale fino dalla parte della nazionale fino al lungomare e in più nella zona B5, tanto criticata, oggetto di palazzinare, oggetto di tante critiche, abbia applicato un piccolo incremento del 15%.